Sicuramente sono molto contento perché all'inizio ho faticato un po' col minutaggio, però col passare del tempo ho capito cosa mi chiedeva il mister, cosa soprattutto chiedeva il mister e sono riuscito a calarmi nel ruolo. Adesso sto trovando il campo con più continuità e sono molto contento. Sono molto contento anche della prova di domenica, non solo mia ma da parte di tutta la squadra perché è arrivata una bella risposta che ci aspettavamo. Sì esatto, poi quello è uno schema sul calcio piazzato che noi proviamo sempre, ogni rifinitura che facciamo. Proviamo uno schema a tre ed è venuto benissimo e Marco è andato in gol. Sono felice, sì, quelle sono le mie caratteristiche, mettere i cross, rifornimenti per i compagni e cercare di far segnare i compagni. Sto campionato e sto girone non ci dà un attimo di sosta perché già domenica c'è una partita importantissima perché la classifica è cortissima, se vinciamo possiamo andare a play-off, se perdiamo è play-out, è sempre quello il discorso. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo la mentalità, la nostra mentalità che ci contraddistingue, che ci deve contraddistinguere da tutti. Quello che ci chiede il mister, il risultato sarà solo una conseguenza della nostra prestazione. Io sono contento del percorso che sto facendo, io rimango a disposizione, il mio compito è quello di dare ogni allenamento il 110% e poi chiaramente le scelte del mister sono quelle, non si discutono. Ogni volta che mi chiederà di scendere in campo io darò sempre il massimo, come ho fatto domenica e come ho fatto sempre. Ma non lo so, in casa siamo stati anche sfortunati perché ci sono state partite che meritavamo di vincere, come contro per esempio la Vispesaro, nel primo tempo è stato a senso unico ed eravamo in vantaggio di solo un gol. Oppure anche contro il Siena, che abbiamo pareggiato, ma se si andava a vedere le occasioni meritavamo qualcosina in più noi. Secondo me è solo un caso e alla lunga verremo fuori anche in casa davanti ai nostri tifosi.